Sicuramente mi piacerebbe fare un video, mi piacerebbe ritornare a fare i video live che raccontino un po' l'esperienza che poi è forse la più fondamentale di chi fa il mio lavoro che è quella del concerto e penso proprio che il prossimo video del prossimo singolo che si intitola non lo so, lo gireremo a Milano durante il concerto che faremo quest'estate